Un momento di festa ha coinvolto i bambini della zona del Basto e le loro famiglie all'ingresso della Chiesa del Buon Consiglio. L'assessore alla legalità e alla Polizia Municipale Antonio De Jesu e il comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito, insieme al presidente della quarta municipalità Maria Caniglia, hanno partecipato alla distribuzione di 150 uova pasquali acquistate grazie ad una raccolta fondi avviata dall'unità operativa San Lorenzo della Polizia Municipale. Gli attestati di gratitudine dell'agente ripagano gli agenti dell'impegno del loro lavoro. Le parole dell'assessore De Jesu. Ascoltiamo. C'è bisogno di privilegiare un rapporto di prossimità con la gente e questa è una meravigliosa iniziativa che tende ad avvicinare la Polizia Municipale alle esigenze del territorio, a più piccoli ed è bello, è una bella giornata. Soddisfatto il comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito. Il quartiere Vasto è un quartiere in cui noi spendiamo quotidianamente tante risorse perché tra Via Firenze, Piazza Garibaldi, Porta Nolana siamo costantemente presenti. Talvolta ci capita di essere aggrediti nello svolgimento delle nostre attività ma noi rimaniamo fermi sui nostri punti. Insieme possiamo riaffermare la legalità in questi posti. È un momento di solidarietà. Fa anche comprendere che non siamo quelli che fanno i verbali o fanno solo i sequestri ma quelli che sono vicini alla gente e alla nostra collettività.